Ennesimo incidente sulla strada statale 106, la cosiddetta strada della morte. Scontro frontale tra due autovetture a Condofuri e Marina. C'è stato un altro incidente e pochi giorni fa a Rogudi sono morte due persone. Coinvolto nell'incidente il consigliere provinciale per Paolo Zavettieri. Una micra con a bordo il conducente di nome DB proveniente da Melito Portosalvo improvvisamente fa inversione ad U scontrandosi con la Passat proveniente da Boa Marina con la guida e consigliere per Paolo Zavettieri. L'impatto è stato inevitabile e violento, per fortuna senza gravi conseguenze. Il signor DB è stato soccorso del Sanitario 118 di Merito Portosalvo e per precauzione trasportato in ospedale, mentre il consigliere per Paolo Zavettieri ha riportato qualche contusione. Diventa sempre più riscoso per gli automobilisti mettersi in viaggio su questa strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Merito Portosalvo e il 118.